Musica Un camion da cava di un'azienda di legni colmo di terra è uscito fuori strada ribaltandosi giù dalla scarpata che costeggia la carreggiata. E' accaduto oggi, martedì 3 aprile, poco dopo le 15, sulla provinciale 460 all'altezza di Feletto. Dalla ricostruzione del conducente del mezzo pare che una vettura abbia sorpassato perdendo il controllo e arrivando al margine della corsia apposta per poi rientrare. Il camion si è ritrovato di fronte all'auto e per evitare lo scontro il conducente del mezzo pesante ha sterzato. Quando le ruote hanno toccato la terra, la tua carreggiata, il mezzo è diventato incontrollabile ed è uscito di strada ribaltandosi. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso ed è riuscito ad uscire da solo dalla cabina del camion, mentre l'auto si era già dileguata. Sul posto sono intervenuti le agenti di polizia locale che hanno bloccato la strada al traffico veicolare il tempo necessario al recupero del mezzo pesante. Sul posto è un'altezza di polizia locale.